Pronti? Vai! 1, perfezione assoluta. 1 su 2, sbracciata e nessuna qualità. 2 su 3, quasi perfetta. 2 su 4, corta e bassa. 3 su 5. 4 su 6, al limite per altezza. 5 su 7, perfezione assoluta. 6 su 8, occhio molto staccato. 7 su 9, al limite per altezza, di nuovo bassa. 8 su 10, al limite per altezza, non ti la posso vedere, ora fa la bassa. 9 su 11, perfezione assoluta. 10 su 12. 11 su 13. Corta e bassa, 11 su 14. Manca la tecnica di spinta di gamba. 12 su 15, molto bene. 13 su 16, perfezione assoluta. 14 su 17, perfezione assoluta. 14 su 18, sbracciata e gambe alte. 14 su 14 su 19, al centro a filo. 15 su 20, quasi perfetta. 15 su 21, nessuna qualità, nessuna tecnica. 16 su 22. 17 su 23, molto bella questa. 18 su 24. 18 su 25, staccata e aperta, non ci siamo su questa, eh? Non c'entra niente comunque di prima. Uguale, 18 su 26, cascatello stesso identico, punto. 19 su 27, al limite per spinta vicino a rete, cioè vicino a centrocampio. 19 su 28, non posso darla. 20 su 29. 20 su 30. 21 su 31. 21 su 31.